ciao a tutti oggi prepareremo la crema catalana il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più tre ore di riposo in frigo gli ingredienti sono latte intero zucchero di canna scorza di limone o pasta di limone tuorli d'uovo amido di mais e cannella diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e la cannella anzioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il latte i tuorli l'amida di mais e la pasta di limone azionare il bimbi per sette minuti 90 gradi velocità a 4 versare il composto in stampini monoporzione lasciare raffreddare a temperatura ambiente e successivamente riporre in frigo per tre ore trascorsi il tempo abbiamo ripreso la crema catalana dal frigo adesso spolverizzeremo la superficie con lo zucchero di canna e brucieremo lo zucchero con un cannello servire crema catalana grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti